Sono 240 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 56 a Caltanissetta. Decresce il numero dei positivi anche in conseguenza dei numeri dei tamponi ridotti effettuati durante il fine settimana. Per gli ingressi in ospedale, meno ricoverati in terapia intensiva, soltanto 5, un ricoverato in più invece in malattie infettive. Sono 69, per la città di Caltanissetta sono 1203 i positivi in quarantena domiciliare e sono 12 invece i ricoverati in malattie infettive. Scendono anche i positivi a Gela, sono 1478 quelli ricoverati in quarantena domiciliare, sono 20 invece i ricoverati in malattie infettive e 3 ricoverati in terapia intensiva. Si abbassano i numeri nel totale della provincia dei pazienti positivi, sono soltanto 5.374 rispetto ai 10.000 passa di 10 giorni fa.